Nel contesto dell'iniziativa guidata da Pedal Consulting con il supporto di USID Invest per supportare le aziende italiane che offrono soluzioni per combattere il Covid-19, incontriamo oggi il team IsClean Air, in particolare Giuseppe Spanto, Managing Director e Founder, Fabio Galatioto, Technology Advisor e Chiara Verderese, Business Developer e addette ai servizi commerciali. Buongiorno Giuseppe, come nasce e di che cosa si occupa IsClean Air? Buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità molto interessante. IsClean Air è operativa da aprile del 2017 e l'attività partita in rollout appunto intende valorizzare molti anni di ricerca e di sperimentazione sul campo della tecnologia di Air Pollution Abatement. È un'iniziativa che posta a beneficio della salute, del benessere delle persone e dell'ambiente. L'idea è stata quella di lanciare un programma differenziante per risolvere uno dei problemi maggiori della società del nostro tempo, l'inquinamento dell'aria che respiriamo. Diversi attori hanno creduto nella nostra iniziativa, ne siamo molto orgogliosi, tra cui la Regione Lazio tramite Lazio Innova nell'ambito di una programmazione pubblico-privata molto interessante che è stata ripetuta anche di recente e recentemente anche la stessa USAID in funzione del progetto per migliorare la salute delle persone, la qualità della vita, lo sviluppo sostenibile e appunto le soluzioni contro le pandemie, la pandemia da Covid che ha caratterizzato gli ultimi due anni. Nel corso dell'ultimo biennio da parte nostra abbiamo rivisto delle priorità proprio in questa direzione e abbiamo concentrato le attività di sviluppo a miglioramento della salute e le condizioni di benessere in tutti gli spazi di vita e di lavoro. In questo contesto allora passo subito la parola a Fabio che ci racconta un po' più tecnicamente qual è il contributo delle vostre soluzioni e qual è l'impegno nella lotta per il Covid-19. L'economologia APA che appunto significa air pollution abatement non fa uso completamente di filtri ma soltanto di acqua e processi meccanici e questo ci permette non solo di abbattere le particelle sottili ma anche inquinanti di tipo gassoso e abbiamo testato anche la capacità di abbattere fino a 20 nanometri che in termini pratici è circa 10 volte più piccolo di un virus come caratteristiche. Ciò ha reso la tecnologia APA un dispositivo medico certificato, un PPE, il che permette di rimuovere dall'aria le particelle che permette ai virus di muoversi oltre ai virus stessi che vengono catturati e inglobati all'interno della macchina e uccisi. Ciò in pratica consente di ridurre la capacità di diffusione del virus e quindi di contaminazione. Inoltre essendo la tecnologia APA l'unica al mondo da avere l'utilizzo dell'acqua nessun filtro permette anche in aggiunta all'abbattimento degli inquilanti e dei virus anche la detection cioè la possibilità di campionare il liquido all'interno della macchina e verificare se c'è la presenza o meno del virus e volendo anche in tempo reale questo potrebbe essere fatto all'interno della macchina stessa. Il fatto che non utilizziamo filtri in pratica rimuove non solo dei costi da normali macchine purificanti ma anche la possibilità di impattare meno sull'ambiente perché i filtri devono essere comunque poi smaltiti oltre che costosi da smaltire in termini di tempo da dedicare per manutenzione. Come terzo di applicazione non solo abbattimento inquinanti e virus ma anche la possibilità di accoppiare la nostra tecnologia a sistemi di riscaldamento ventilazione e condizionamento dell'aria che sono presenti negli edifici. Questo lo stiamo facendo all'interno di un modello chiamato Nezapop Near Zero Air Pollution Building che è stato recentemente finanziato e permette di ridurre i consumi energetici dei sistemi di ventilazione e condizionamento fino al 25%. I costi di manutenzione perché i filtri si intassano meno e quindi c'è meno necessità di energia e potenza per i sistemi esistenti. Questo si può anche accoppiare volendo anche alla possibilità di trarre beneficio dai sistemi esistenti che producono acqua per condensazione. Il nostro sistema utilizza acqua e quindi diventa praticamente un sistema che risponde completamente i principi e paradigmi della circolare economy con una sostenibilità quasi al 100% e poco emissioni di carbonio. Quindi insomma un'attenzione ai 360 gradi su tutti quelli che sono gli impatti sull'ambiente, sui cittadini e anche il lato economico quindi insomma un lavoro veramente integrato e solido. Da Chiara invece vorrei sapere in che modo il progetto guidato da Pedal Consulting e promosso da USID Invest ha contribuito attualmente oppure contribuirà in futuro a migliorare l'impatto delle vostre soluzioni e le vostre attività in risposta al Covid-19 oppure più in generale al benessere dei cittadini. Buongiorno a tutti e grazie mille. Allora è giusto dire che nell'ultimo biennio in correlazione alla pandemia da Covid-19 e all'emergenza epidemiologica che tuttora perdura è stata rimarcata l'esigenza di identificare e ricondursi a soluzioni più strutturali. Tra di esse appunto è emersa quella di pulire l'aria che respiriamo dalle particelle inquinanti che in effetti costituiscono senza dubbio il vettore e l'elemento principale di diffusione della contaminazione e del contagio. Noi crediamo che non usciremo dalla pandemia a breve e dobbiamo arrivare a limitare i rischi di contagio, la circolazione del coronavirus ma dei virus in generale in quanto i vaccini da soli non bastano. Infatti sono richiesti nuovi servizi e anche altre e nuove soluzioni differenzianti. Alla luce della consapevolezza e della nuova attenzione al problema della qualità dell'area e della contaminazione da virus soprattutto nelle aree più affollate per contatto sono rilevanti appunto le opportunità su cui focalizzare queste strategie integrate di crescita ed espansione su filiere e value chain. Il progetto USAIT quindi potrà contribuire per noi in maniera significativa alla messa a punto e alla realizzazione e imprimentazione e ampliamento dell'iniziativa YesCleaner nel suo insieme che vede la tecnologia APA posta a servizio degli stake owners non solo a livello Italia bensì su scala globale. Grazie per averci fatto conoscere questa attività davvero interessante che veramente ha pensato tutto, ha pensato tutti gli aspetti e quindi in bocca al lupo per la vostra attività e grazie per quello che fate.